è proprio l'atto pratico, la giovannita è quando tu per esempio virai a Novaglione che piace a un amico tipo Fabiano, facciamo un esempio tipo Fabiano, no? e tu per esempio all'amico ci piace quindi alla differenza da gironata e giovannata e questa qua allora praticamente alla gironata è quando ti piace una ragazza fidanzata del tuo amico e quindi praticamente rubi la fidanzata del tuo amico la giovannata è un furto, è un vero e proprio furto è previsto a codice penale ormai ho capito, la giovannata invece è praticamente quando il tuo amico sta corteggiando una ragazza quasi ottenendola e subito praticamente ci sta, tieni presente quell'uccello che ruba ci sta praticamente la giovannata il corpo, il corpo, la giovannata o corpo potrebbero chiamare anche il... come si chiamano quegli animali che mangiano le prede avvoltuio, dicesi avvoltuio anche, ah lo sciacallo, lo sciacallo sei uno sciacallo ah ho capito che poi è nato il termine sciacallaggio bravissimo un'era di scuola che ormai vince molto lo sciacallaggio lo sciacallo, lo sciacallo lo sciacallo, ok, sciacallo